Ma che cos'è la mia misura di inclusione attiva che dal primo di agosto di quest'anno dovrebbe sostituire il reddito di cittadinanza grillino? Prima di iniziare ovviamente ti ricordo di iscriverti al canale e se vuoi anche di attivare la campanella per essere aggiornato su tutti i nuovi contenuti. Qual è la differenza tra la mia, voluta dalla Meloni e dal centro-destra, e il reddito di cittadinanza grillino? La prima cosa che dovete sapere è che per le famiglie di occupabili o i singoli occupabili il vecchio reddito di cittadinanza finisce a luglio di quest'anno, quindi dal primo di agosto è finito, non esiste più quel reddito e sarà finito anche per le altre famiglie con all'interno disabili, minori o anziani e non persone occupabili finirà il 31 dicembre di quest'anno. Quindi dal primo di settembre sicuramente un singolo in età lavorativa o una famiglia con all'interno persone occupabili, se vorrà essere aiutato dallo Stato in quanto povero, dovrà fare la richiesta non più del vecchio reddito di cittadinanza ma della nuova mia, misura di inclusione attiva voluta dalla Meloni. Ma andiamo a questo punto a vedere in che cosa consiste. Prima, con il reddito grillino, per poter accedere a questa misura di aiuto economico dovevi guadagnare meno di 9.360 euro, che era la soglia di povertà. Se tu guadagnavi di meno ero un povero assoluto, per questo lo Stato interveniva ad aiutarti. Oggi che cosa accade? La Meloni darà la sua mia a persone che guadagnano più o meno di 9.360 euro come facevano i grillini. La risposta purtroppo è una risposta molto negativa. Per poter accedere a questa misura di aiuto i poveri dovranno guadagnare meno di 7.200 euro. Quindi dovranno essere molto più che poveri assoluti, poverissimi assoluti. E sapete che cosa comporta questo abbassamento? Comporta che centinaia di migliaia di famiglie italiane non percepiranno più un aiuto da parte dello Stato perché guadagneranno tra 9.360 euro e 7.200 euro voluti dalla Meloni. Centinaia di migliaia di famiglie buttate in mezzo alla strada. Quindi abbiamo capito una prima cosa fondamentale e anche molto negativa. Ci saranno molte meno persone che percepiranno il reddito. Ma quanto percepiranno? Sono meno persone, ma quanto meno percepiranno qualche cosina di più dal reddito di cittadinanza meloniano? No, percepiranno di meno. Qua seguitemi bene. Vengono divise le famiglie italiane in due categorie. Le famiglie che hanno all'interno persone occupabili, cioè in età lavorativa, possono essere anche dei single in età lavorativa e le famiglie che non hanno all'interno persone in età lavorativa, ma hanno all'interno un disabile, un minore o un anziano over 60. Che cosa accade a queste due tipologie di famiglie? Le persone che non hanno all'interno occupabili o i single che non sono occupabili percepiranno 500 euro al mese. Prima ne percepivano 780. Quindi non solo ci sono meno persone che percepiscono il reddito della Meloni. Ma percepiscono anche di meno. 280 euro in meno al mese è tanta roba. E sapete dove sono andati a tagliare questa cifra? Sull'aiuto per l'affitto. Perché chi percepisce la foglia massima di reddito ovviamente non è proprietario di casa, perché nell'ISE rientra anche la proprietà della casa, dell'immobile. E quindi veniva dato loro un aiuto per l'affitto, i 280 euro. Cancellato. Come se nel passaggio dal reddito grillino al reddito melonino o del centrodestra o sovranista, tutti i poveri fossero diventati padroni di casa. Ma ci rendiamo conto di che cosa è stato fatto. Ma andiamo a vedere cosa percepiscono invece le famiglie con all'interno persone occupabili o il single occupabile. Voi direte, quelli percepiscono poco, daranno una mano di più questi qua? Assolutamente no. 375 euro al mese. Cioè un single in età lavorativa, quindi disoccupato, percepirà una cifra che non gli permetterà neanche di arrivare alla seconda settimana del mese se consideriamo il costo della vita aumentato a causa di un'inflazione in doppia cifra. Ma anche un concetto di base che è folle. Tu mi stai dicendo che sei una coppia senza figli o sei un single e percepisci di meno di un'altra situazione di famiglia con ad esempio di figli. Cioè qui tu stai dicendo a un giovane che magari ha, vorrebbe, ambirebbe, amerebbe l'idea di fare figli e di fare famiglie, ma tu gli togli quei soldi che gli danno la stabilità verso il futuro e quindi i figli non li fa. Quindi mentre il reddito di cittadinanza grillino era un incentivo alla natalità perché dava stabilità economica alle coppie giovani senza figli o ai single per creare una famiglia, creare una coppia o se c'era già la coppia per fare una famiglia, quell'incentivo alla natalità praticamente viene cancellato alla faccia di questo centrodestra che dice di essere a favore delle famiglie con figli e a favore della natalità. Se togli i soldi ai giovani, togliendogli la stabilità e le certezze per il futuro, ovviamente gli stai togliendo anche le condizioni per immaginare solo di fare dei figli. Ma fermi qua, andiamo avanti perché non è assolutamente finita qua. Abbiamo visto quindi meno persone che percepiscono il reddito, percepiscono meno soldi e voi direte ma sicuramente a bene lo percepiranno per più tempo. Ah, almeno no, se sei un single non occupabile, una famiglia che ha all'interno disabili, anziani o minori, percepirai il reddito per 18 mesi, pausa di un mese e 12 mesi e poi non si sa cosa ci sarà dopo, probabilmente o forse non ci sarà più niente. Se invece sei un single occupabile, una famiglia con all'interno persone occupabili, lo percepirai per 12 mesi, pausa di un mese, per altri sei mesi e poi ci sarà una pausa di 18 mesi, al termine della quale non so se potrai, se sarai vivo ovviamente, se sarai sopravvissuto e non si sa poi se ci sarà un rinnovo di questo reddito di cittadinanza. Quindi ricapitolando, meno persone che percepiscono il reddito dalla menone rispetto al reddito grillino, percepiranno meno soldi e le percepiranno per meno tempo. Ma in tutta questa tragedia, perché è una tragedia collettiva seria, perché più poveri per strada e più famiglie italiane in difficoltà, c'è un cameo che ci dona la ministra Calderoni in una recente intervista alla Repubblica, la quale parla di una piattaforma e di un'applicazione per smartphone. Cioè deve iscriversi a questa piattaforma, fare una domanda per percepire il reddito e grazie a questa iscrizione, a questa domanda, percepire il reddito. Ma lei dice che questa piattaforma sarà utilizzata dall'Inps, dal Ministero del Lavoro, dalle regioni, rido già, dai comuni, dall'Ispettorato del Lavoro, dalle aziende, dai privati, dai centri per l'impiego pubblici, dei centri per l'impiego privati che dovranno, a detta sua, interscambiarsi i dati e risolvere tutte le problematiche che ci sono state. Ma voi vi rendete conto di cosa stiamo parlando? Io vi ricordo semplicemente che quando fu istituito nel 2018 il reddito di cittadinanza vennero stanziati più di un miliardo di euro per assumere personale nei centri per l'impiego pubblici che, vi ricordo, a norma di Costituzione non dipendono dallo Stato centrale ma dalle regioni. e questo miliardo serviva per assumere circa 12.000 persone nei centri per l'impiego entro il 2021. Sapete che oggi che siamo nel 2023, e rito per non piangere, sono state assunte meno di 4.000 persone e sono proprio loro che avrebbero dovuto implementare la piattaforma che già esiste. Quindi immaginatevi voi che buco nell'acqua, che disastro che farà, che si causerà, che ci sarà per questa piattaforma e per questa applicazione informatica. Poi lasciatemi dire che questi qua del centro-destra sono più legati al fax e al telefono col filo della cabina telefonica che allo smartphone e all'intelligenza digitale e magari addirittura intelligenza artificiale. Dimenticavo di dirvi che i pochi che riusciranno a percepire il reddito di questo centro-destra lo perderanno se rifiuteranno la prima proposta di lavoro. Prima erano tre proposte per perdere il sussidio, adesso è una e la perderanno anche se rifiuteranno un lavoro che dura 30 giorni, un contratto a tempo determinato di 30 giorni, che dovrà essere fatto o nella provincia di appartenenza o nelle province limitrofe alla propria, che potenzialmente significa anche 150 km. Quindi mi dovrei trasferire a 150 km per 30 giorni per fare un lavoro sottopagato, pagato pochissimo e se non lo faccio perdo il sussidio per farvi capire cos'è, quanto è brutto il nuovo reddito di cittadinanza del centro-destra rispetto a quello grillino. Per concludere vi dico un'ultima cosa. Voi avete presente ovviamente che questi politici del centro-destra hanno fatto carriera soprattutto grazie alla propaganda contro gli immigrati e sapete che il loro reddito di cittadinanza verrà dato ad un maggior numero di stranieri, tra cui extracomunitari rispetto a prima? E sapete perché? Hanno abbassato la soia di residenza in Italia continuativa da 10 a 5 anni per gli stranieri, quindi questi quantomeno raddoppieranno, quindi meno italiani, perché avete visto le soglie, che percepiranno il loro reddito, più stranieri che percepiranno il loro reddito. Questo in sintesi è la mia, la misura di inclusione attiva che a me pare, come giustamente ha detto in un post recente Beppe Grillo, si debba chiamare misura di esclusione attiva. Siamo arrivati alla fine anche di questo video, lo so che non vi ho dato informazioni positive, ma sono informazioni vere. Diffondete tutte queste informazioni, dibattete, difendete i vostri interessi di italiani e se potete protestate anche pacificamente perché vi stanno e ci stanno rendendo più poveri rispetto a quanto non lo fossimo prima. Se ti è piaciuto questo video, ovviamente metti un bel like e non dimenticarti di iscriverti al mio canale e noi ci vediamo alla prossima!